Tutti dal salutatore, ecco qui io mi trovo con il grandissimo Piero Villaggio che seguo moltissimo, ti ho visto anche da Barbara D'Urso, ti volevo chiedere un saluto per tutte le persone che ti seguono perché comunque ti seguono anche a te Piero Lui esagera, mi saluto comunque, lui esagera, è troppo gentile io poi non sono molto sui social perché non sono molto pratico, sono un po' all'antica non mi seguo particolarmente, però io vi saluto a tutti, spero che vada bene questo saluto Certo, va benissimo, salutiamo tutti quanti, ovviamente vogliamo ricordare il tuo grandissimo papà che siamo cresciuti con lui e sempre con noi vicini, i suoi film sono immortali, lo vediamo è troppo buono, è sempre troppo buono, grazie comunque, grazie a tutti e un saluto e a presto Io ti ringrazio che abbiamo qui anche il direttore megacarattico, prego Sì, però con Piero no, ecco qua, ecco qua, ecco il megadirettore calattico Perciò è una bellissima emozione, io al megadirettore già ho dato la manina e adesso questa io la do a te, con grande piacere, salutiamo tutti i pazzi del web Ciao, ciao, ciao